Allora, terza lezione dedicata alla società multiculturale. In questa lezione parliamo di due concetti filosofici che, se volete, molto importanti, rimandano anche ad altre discipline, che sono appunto l'uguaglianza, l'identità e la diversità o differenza. Sono due concetti sui quali si è concentrata la discussione proprio da un punto di vista sia giuridico che filosofico che sociologico, sul quale concepire appunto come sviluppare la nostra società multiculturale. Prima di tutto parliamo del valore dell'uguaglianza, che è stato un valore affermato dalla borghesia rivoluzionaria durante il Settecento in Francia, fa riferimento appunto all'illuminismo, che sono stati i primi a concepire quest'idea, ed è una questione estremamente importante soprattutto perché è diventato il cardine delle Costituzioni dello Stato moderno, cioè l'idea che davanti alla legge si debba essere in qualche modo tutti uguali, senza distinzione di classe, religione, genere, eccetera, eccetera. E' ovvio che, dicendo questo, la cosa importante è che è proprio lo Stato che ha la funzione di regolatore, di dispensatore di diritti uguali per tutti. Mentre l'altro concetto, quello della diversità, viene prima di tutto affermato nella celebre lettera sulla tolleranza da John Locke, dove appunto la tolleranza è questo atteggiamento di cui John Locke si faceva appunto portatore nel suo testo di rispetto di tutte le diversità, di tutte le differenze delle persone. E' ovvio che questa tolleranza rispetto alla diversità faceva proprio riferimento alle differenze religiose. Se pensate al cristianesimo, alla religione cristiana, solo in Europa le diverse interpretazioni della religione cristiana sono molteplici, quindi il protestantesimo, che comunque a sua volta ha suddiviso in calvinismo, luteranesimo, la chiesa anglicana ed altri. Poi ovviamente c'è il cattolicesimo, all'interno del quale le differenze sono comunque molteplici. E poi ovviamente abbiamo l'ortodossia, la religione ortodossa. Sono appunto questa diversità nella religione, mette in evidenza come l'interpretazione, le interpretazioni possibili del messaggio religioso sono tante e appunto diverse e rimandano comunque alla base della vita umana, dell'individuo, una dimensione esistenziale dove in fondo ognuno di noi esprime comunque una diversità all'interno dell'uguaglianza. Appunto questo prospettivismo, questa prospettiva interpretativa del messaggio religioso è qualche cosa di molto importante, anche se ovviamente questa tolleranza è sicuramente qualche cosa difficile, soprattutto nell'ambito religioso, perché la maggior parte delle religioni tendono ad assumere una visione, come dire, radicale dove ogni religione è quella fondamentale e non può essere messa in discussione. Nella riflessione moderna però ci si è reso conto che comunque sia non tanto il conflitto ma il confronto tra le varie prospettive porta ad un processo di sviluppo, di elaborazione di concetti, comportamenti, idee che è qualcosa di estremamente importante all'interno della nostra società. tanto per fare un esempio, l'idea appunto dell'uguaglianza di genere tra uomini e donne noi siamo sicuramente uguali ma le differenze tra uomini e donne ci sono e bisogna trovare il modo di riuscire a conciliarle anche se conciliarle potrebbe voler dire ridurre tutti alla stessa posizione e in qualche modo non rispettare invece le differenze che possono essere invece un qualche cosa che produce idee nuove e anche sviluppo o elaborazioni positive. Una cosa, un fenomeno particolare su cui vale la pena spendere qualche parola è il caso degli afroamericani negli Stati Uniti dove appunto a partire dagli anni 70 in qualche modo è nata una rivendicazione, un movimento di rivendicazione per il superamento delle differenze razziali che nonostante la guerra di indipendenza sono comunque rimaste profonde all'interno della società americana con disuguaglianze, con discriminazioni che comunque sono qualche cosa di importante e sono un problema basta leggere un po' dell'attualità per rendersi conto di come le carceri americane siano sostanzialmente più piene di afroamericani e comunque sia l'atteggiamento nel confronto degli afroamericani è qualche cosa di comunque problematico nonostante l'elezione di un presidente nero è importante qui ricordare due figure che hanno caratterizzato i movimenti di rivendicazione dei diritti degli afroamericani cioè da un lato quella più conosciuta che se volete è stata vista come quella buonista dove tutti dovevano essere uguali in una prospettiva appunto di conciliazione che è quella di Martin Luther King appunto famoso il suo celebre discorso I have a dream dove lui appunto sperava, rivendicava lo sviluppo di una società dove tutte le persone fossero sostanzialmente uguali mentre meno conosciuta però sicuramente molto importante in quel fenomeno che appunto sono stati i movimenti di rivendicazione degli afroamericani è Malcolm X Malcolm X è una figura che invece predicava più un'azione se volete violenta, aggressiva nei confronti della società bianca è una, come dire, una prospettiva anche dove si unisce nella riflessione di Malcolm X anche il fatto che in qualche modo gli afroamericani dovevano avvicinarsi alla religione musulmana che era più in linea con la rivendicazione dei diritti degli afroamericani pur nella diversità tant'è che Malcolm X anche propose in qualche modo agli afroamericani di ritornare tutti in Africa da dove arrivavano per concludere possiamo sostanzialmente dire che il problema della nostra società multiculturale quello che vedremo appunto nella prossima lezione è appunto quello se come dire concepire la nostra società come una società multiculturale dove ci sono le differenze ma più o meno vengono tutte omogeneizzate e rese uguali oppure dove invece ci deve essere una prospettiva interculturale dove le differenze vengono non solo rispettate ma anche valorizzate come un qualche cosa di positivo e produttivo vengono gu leader